Dopo un'attenta e scrupolosa missione ai seminari, bisogna promuovere una formazione personalizzata, perché i preti hanno una storia, non sono funghi che spuntano improvvisamente in cattedrale nel giorno della loro ordinazione, e occorre ricordare che si diventa preti per stare in mezzo alla gente, non per fare i funzionari. Incontrando i partecipanti al convegno promosso dalla Congregazione per il Clero a 50 anni dalla promulgazione dei decreti conciliari relativi alla formazione e alla vita sacerdotale, Papa Francesco ha ricordato che un buon prete deve essere un apostolo di gioia, non triste, nervoso e duro di carattere. In un discorso pronunciato largamente a braccio, il Pontefice ha insistito molto sulla missione ai seminari attraverso un'attenta selezione. Ha chiesto ai Vescovi di essere vicini e presenti con i propri sacerdoti, perché altrimenti è meglio dimettersi, e ha invitato i preti a essere vicini alle persone, non filantropi o funzionari, ma padri e fratelli. A tutti Papa Bergoglio ha chiesto di avere misericordia e uno sguardo amorevole, soprattutto nella confessione, benedicendo quando non è possibile assolvere. Grazie.